Ma con l'evento di martedì 9 facciamo il punto come facciamo ogni anno con tutto il mondo del partenariato, quindi con le parti sociali, il mondo del lavoro, dell'impresa, le istituzioni locali, il mondo delle camere di commercio, facciamo il punto sul livello di applicazione di utilizzo delle risorse europee 7 e 13. Noi siamo molto soddisfatti, siamo una regione che continua a essere virtuosa, che riesce a spendere, la spesa ha una sua efficacia e io vorrei anche dire che non è assolutamente vero quello che si asserisce anche in questi giorni, che avremmo fatto un uso parcellizzato e frammentato delle risorse. Noi abbiamo speso secondo quelle che erano le regole che ci imponeva l'Unione Europea, abbiamo cercato di dar fiato alle imprese che volevano investire per la ricerca e per l'innovazione e abbiamo cercato di concentrare le risorse. Per l'impresa abbiamo finanziato i distretti, i poli di innovazione, le reti di impresa, sui progetti territoriali abbiamo finanziato progetti di area vasta in alcuni comuni, nei comuni principali della nostra regione, quindi la logica è stata quella di sostenere gli investimenti, concentrare le risorse e favorire la tenuta di un settore produttivo in un momento estremamente difficile. Quest'anno abbiamo l'opportunità anche di fare il punto sulla nuova programmazione 14-20, io sono fiducioso che la nostra programmazione sarà una delle prime approvate a livello europeo, abbiamo rispettato quelli che erano i parametri, abbiamo messo gran parte delle risorse 14-20 a favore delle imprese, come ci chiede l'Unione Europea, abbiamo fatto anche una scelta di grande qualità a fronte al dissesto idrogeologico che ha contraddistinto questi mesi di vita drammatica della nostra regione, abbiamo pensato di utilizzare il massimo possibile, quasi oltre 42 milioni, dei nuovi fondi europei anche per il dissesto idrogeologico, crediamo sia una scelta giusta, valida e il martedì sarà una cosina di confronto.